La palestra di San Pietro sta per andare a cantiere con 350 mila euro, 190 del Galle e 160 del Comune di Gubbio. La destinazione è quella di un centro culturale per attività polivalenti a beneficio della città, del quartiere e delle associazioni giovanili, cioè di tutti quei soggetti che per anni in passato ne hanno goduto. Quindi siamo in dirittura d'arrivo rispetto a un tema controverso e io voglio ricordare che per il parcheggio di San Pietro noi abbiamo investito 1 milione e 200 mila euro dopo il famoso lodo arbitrale per metterlo in sicurezza perché sennò quello rimaneva un cantiere fermo chissà per quanti anni, perché quel PUC probabilmente è stato impostato male nel rapporto pubblico-privato, tant'è che gli imprenditori o sono fuggiti o sono falliti e quindi evidentemente è un fallimento che abbiamo ereditato ma che abbiamo recuperato quantomeno dando alla città 110 posti auto. Il Comune non crea lavoro. Il Comune può dare una mano, secondo me, anche con le piccole incentivazioni. Per esempio dire che c'è una detassazione totale comunale o in buona percentuale per i primi due o tre anni che sono i più difficili è una cosa che aiuta e che ti fa sentire meno solo. Io propongo anche l'idea di un accordo con le banche locali per la costituzione di un fondo che vada incontro ai disgraziati che non riescono a pagare le due o tre rate del mutuo per ragioni oggettive perché poi si perdono l'attività e a volte anche la casa. Le aree che ci sono, io penso, da Umbertide potrebbe arrivare qualcosa sulla nostra zona di Camporeggiano e di Mocaiana dove le aree ci sono, magari facilitare questo anche a costi molto bassi. Da questo punto di vista credo, e lo dirò nell'appello finale, che ci sarà una grossa novità se i cittadini diranno che dovremo essere noi ad avere la responsabilità e la guida della città. Il sindaco deve far funzionare il comune, è quella la prima cosa. E non servono a niente neanche gli incentivi fiscali che a un'azienda se gli togli 300 euro all'anno ma che gliene frega. Cioè non è quello l'elemento che può determinare il fatto che sì, ho 300 euro in meno, apro l'azienda, oppure no. È chiaro che invece è necessario importare il bene più prezioso che serve agli imprenditori, le informazioni. Ci sono fonti di finanziamento di cui nessuno sa niente. La regione Umbria, oggi che è il 2019, avrà tempo fino al 2020, dal 2014 ha speso ancora il 40% dei fondi europei. È questo il vero scandalo, altro che la sanità, che è uno scandalo, i rifiuti. Ha 46 fondi sulla cultura. Esatto. Per restare in tempo. Allora, il problema degli eventi culturali è vero, Gubbio ne ha molti, è variopinto, è molto. Il problema è l'organizzazione per tempo. Un operatore deve avere un programma 12 mesi prima, se no come fa a togliere le camere da booking e a vendersele per conto suo, se non sa che il prossimo agosto, non questo, quello del 2021, ci saranno questi eventi? Le frazioni purtroppo vivono questo problema di sicurezza, di degrado, dovuto a alcune persone che cercano di rubare in casa. La gente quando esce non è più sicura. Noi crediamo che sicuramente dobbiamo lavorare affinché anche a Gubbio ci sia un commissariato di polizia, l'abbiamo anche scritto nel programma. Abbiamo scritto nel programma che i vigili urbani devono essere più presenti sul territorio, non soltanto quando c'è la campagna elettorale per capire quali sono le esigenze, ma sempre bisogna lavorare anche dopo le 8 e bisogna andare a parlare con le persone ed essere presenti come strumento di dissuasione. Dobbiamo anche investire perché fondi in comunità europea ce ne sono tantissimi per queste cose e noi dobbiamo essere capaci di andare su, prenderli, portarli a Gubbio e di investire. Investire su strumenti di dissuasione di fenomeni criminali. Nel nostro programma abbiamo previsto questa cosa perché esiste un'agevolazione fiscale notevole che si chiama Sport Bonus, che prevede di contributi da parte di imprese ditte, di imprese e privati con modalità e limiti differenti, ma a fronte di questo contributo chi ha erogato il contributo ha una detrazione fiscale del 65%. Due conti, dai mille, riprendi 650 come credito d'imposta. Quindi se questa cosa viene sviluppata e è destinata proprio per la manutenzione o realizzazione di impianti sportivi, quindi puntare, coinvolgere grandi imprese, perché si parla al limite dell'1% dei ricavi, ci sono due grandi imprese a Gubbio che hanno questa possibilità. Quindi potremmo parlare, sederci intorno al tavolo, per valutare questa possibilità. Io, nei miei incontri, ho fatto una proposta che è quella di proporre, di istituire, adesso parlo non da tecnico ma da politico, un assessorato alla sanità. E tutti dicono, ma non è possibile. È possibile, alcune città l'hanno fatto. Ha una funzione esclusivamente propositiva e non esecutiva. Non ha possibilità di gestire nulla, però dà delle indicazioni al sindaco. L'ospedale nostro ha un ruolo fondamentale nella rete dell'emergenza e non si discute, non deve essere messa neanche in discussione. La politica che il sindaco può fare è la politica sociosanitaria, l'attenzione alle famiglie in difficoltà che vivono disagi, disabilità o quant'altro. È la politica di informarsi e di informare la comunità, per esempio, che la nostra regione ha messo le malattie di Alzheimer in quelle patologie in cui è possibile che queste famiglie abbiano un assegno di 600 euro al mese, che non è tanto, però è qualcosa di utile. Per esempio, questo può farlo con un dialogo diretto con l'assessorato alla sanità.